Dai trattamenti economici alla presenza nelle strutture dirigenti fino agli stereotipi con cui spesso vengono rappresentate le donne nello sport subiscono da sempre un'impronta maschilista. Per questo nasce il manifesto Media Donne Sport, idee guida per una diversa informazione pratorcinato tra gli arti dall'ordine dei giornalisti, dalla Federazione Nazionale della Stampa e dall'Associazione Nazionale Calciatori.